Italiano, condottiero, guerriero, signore e signori, ecco Leonardo Colucci, ministro della difesa italiana. Rade Arctic Catecoide Rade Arctic Catecoide Rade Arctic Catecoide E carvedino Rade Arctic Catecoide Rade Culiaccio Rade Arctic Cateca Rade Arctic Catecoide Rade Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sono molto contento di essere qua, sappiamo tutti noi da quanto volevo venire qua e quanto questo club e questa società voleva portarmi e alla fine finalmente siamo riusciti a fare quello e ovviamente io sono più contento. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501